Ci ho giocato a porto tante volte, ma anche ci ho dimenticato. Per i telespettatori che magari non lo conoscono, non hanno seguito negli ultimi anni la Serie B, perché i tifosi del Parma sono stati abituati a seguire la Serie A, e poi ad un certo punto si sono dovuti rapportare con la Serie D, questo pianeta sconosciuto. Adesso stiamo cercando di prendere confidenza con la Vega Pro. Per Dino lo conoscesse, che tipo di giocatore hai deciso? Beh, penso che il squadro in cui hai giocato Parma Consola ha una grandissima carriera, è un giocatore che si fa sentire in campo. Come ho detto prima, ho litigato tante volte perché, anch'io lo ammetto, sono fastidioso quando gioco. Da un sfogo? Sì, abbastanza. E quindi no, non solo per parlare bene, è un centrale difensivo, è una grossa struttura, cattivo, però non solo per parlare bene. Cos'è che ti porti per questo?